Che senso ha la nostra esistenza? Tutta questa intelligenza, che senso ha? Si può sapere che c'hai? Sei sempre pensieroso. Ogni elemento messo in relazione con un altro crea un'armonia. Però non è la faccia da Martina. No? E che faccio? Ha la testa rossa. L'hai visto? Aspetta! Non fare il bambino! Dove sei stato? A Bavari. Ma si può sapere che ci va a fare? A Bavari. Ragazzi! A Bavari! Dove vai di banzo? Ma c'è stato una nuova. In ogni punto in cui i tuoi occhi guardano, è nascosto un dio. A Bavari. 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 A Bavari.